Il cristiano non è un profeta di sventura perché il suo annuncio è l'opposto, è Gesù, morto per amore e che Dio ha risuscitato a Pasqua. E questa speranza che viene da Cristo va testimoniata con i fatti e con la vita, amando anche quando non sembrano più esserci ragioni. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale, tenuto in piazza San Pietro davanti a fedeli venuti da tutto il mondo, sul tema missionari di speranza oggi. Portatori di speranza grazie a Gesù, che non risorge solo per se stesso, ma trascina in alto ogni essere umano. Ricevendo lo Spirito i discepoli rinascono a vita nuova perché l'annuncio della risurrezione di Gesù non si fa solo a parole, con formule imparate a memoria. Cristo vuole testimoni che propagano speranza con il loro modo di accogliere, di sorridere, di amare. Amare anche quando l'amore pare aver smarrito le sue ragioni, ha spiegato il Papa, perché c'è un di più che abita l'esistenza e la fede cristiana e non è solo l'ottimismo. Noi siamo persone con un pezzo di cielo in più sopra la testa, accompagnati da una presenza che qualcuno non riesce nemmeno a intuire. Così il compito dei cristiani in questo mondo è quello di aprire spazi di salvezza, come cellule di regenerazioni capaci di restituire l'infa a ciò che sembrava perduta per sempre. Quando il cielo è tutto nuvolosso, è una benedizione che sa parlare del sole. Ecco, il vero cristiano è così, non lamentoso e arrabbiato, ma convinto per la forza della resurrezione che nessun male è infinito, nessuna nota è senza termine, nessun uomo è definitivamente sbagliato, nessun odio è invincibile dall'amore. Questa speranza però a volte si paga a caro prezzo, ha concluso Francesco, come è successo ai discepoli e ai tanti cristiani che non hanno abbandonato il loro popolo, quando è arrivata la persecuzione. Pensiamo ai nostri fratelli e solelle del Medio Oriente che danno testimonianza di speranza e offrono la vita per questa testimonianza. Questi sono veri cristiani, portano il cielo nel cuore, guardano sempre oltre. Chi ha Cristo al proprio fianco davvero non teme più nulla.